benvenuto alla prima lezione la prima lezione impariamo a sentire è curioso che in un metodo di canto dei principianti la prima lezione sia impariamo a sentire ma come dicevo prima il principiante nel canto può essere chiunque e chiunque al di là della professione o al di là dell'uso della voce che fa può conoscere o meno quella che è la componente fondamentale del canto l'ascolto l'ascolto non è solo l'ascolto uditivo per esempio nella lingua italiana c'è questo bellissimo verbo sentire in cui a differenza di tante altre lingue coincidono diversi modi di sentire diversi strati di sentire c'è il sentire olfattivo senti che profumo c'è il sentire uditivo appunto senti che suono senti che rumore c'è il sentire emotivo senti che emozione c'è il sentire gustativo senti che gusto ma c'è assolutissimamente focalizzato in questo sentire la percezione senti la musica senti la voce quindi in questa prima lezione mi piacerebbe proprio stimolarti a sentire senti per esempio il tuo respiro adesso mettiti un attimo lì tranquillo seduto comodo senti come stai respirando senti per esempio se respiri di più nella parte alta del torace o nella parte bassa nell'addome senti il battito del tuo cuore se la risposta è no metti una mano senti la pulsazione del tuo cuore togli la mano e cerca di sentire senza la mano questa sensazione di tum tum cioè dentro di te c'è un battere ritmico c'è una sensazione ritmica cerca di sentirla se sei in un ambiente rumoroso che rumori ci sono intorno a te se invece sei in un momento e in un ambiente di totale silenzio come io ho la fortuna in questo studio al di là degli scricchiuli della sedia che rumori senti il tuo organismo sta facendo dei rumori la pancia sentire è importantissimo per un cantante perché ripeto lo strumento è dentro di te in relazione a quanto tu riesci a percepire le minime modifiche di quello che sei tu la tua voce cambierà la tua voce migliorerà la tua voce si potenzierà e soprattutto mi darà in modo di aiutarti in maniera veramente proficua nel percorso alla scoperta della tua voce